I motori non aspettano altro che essere accesi, è tutto pronto in Valle del Serchio per l'edizione 2014 della 12 ore il ciocco, il rally tornato nel calendario nazionale dopo due anni di pausa. Curata dalla Organization Sport Events, la gara si ripanerà su due giorni, sabato 23 le verifiche sportive e tecniche, domenica 24 agosto il rally vero e proprio. Due le prove speciali in programma, ciascuna da ripetere tre volte, quella disegnata nella tenuta del ciocco e quella sulla mitica arenaio. Partenza del rally alle 10 da Fornaci, arrivo e premiazione sempre a Fornaci alle ore 18. Sono 75 gli equipaggi che si presentano al via della competizione inserita nel trofeo Acilucca. Favorito per il successo il locale Gistovanni al via con un arenoclio Super 1600. A dargli battaglia ci penseranno l'elbano Andrea Volpi e il pratese Bernardo Bettarini, entrambi su Renault Clio R3. A completare il pool dei più attesi, Daniele Pellegrineschi su Citroen DS3, Gianluca Marchi su Clio Super 1600 e Luca Panzani in gara con una Twingo R2.